Oltre oceano non è arrivato ancora nessuno. Sempre più attenzione agli alimenti naturali e biologici, un settore in forte espansione. Noi produciamo latte d'asina, produciamo dei carciofi, produciamo delle arance e del grano. Tutto rigorosamente bio perché siamo al sana di Bologna. Una crescita esponenziale negli ultimi anni con 2 milioni di ettari coltivati al terzo posto in Europa. Le 80 mila aziende, il numero più alto di imprese dell'intero continente. Esportazioni cresciute del 156% in 10 anni, dell'11 solo nel 2020. Sei padiglioni tematici perché bio significa non solo cibo ma benessere a 360 gradi. Dalla cura del corpo ai materiali da costruzione. Certamente la parte agricola è quella che sviluppa il fatturato più importante. ben 487 milioni di euro solo se si considera la ristorazione. Io ho cominciato la mia carriera con la scuola alberghiera di Castel San Pietro Terme, poi mi sono trasferita in Olanda e a 22 anni ho aperto il mio ristorante che è diventato il ristorante italiano migliore d'Olanda secondo uno dei più grandi quotidiani olandesi. E sono molte le regioni in prima linea con questo straordinario cambiamento, a partire dalle marche. Un'importante novità per le marche, abbiamo sostenuto e oggi siamo alla vigilia di una grande e importante costituzione che è quella del distretto del biologico delle marche, che sarà il più grande distretto biologico d'Europa. La regione Marche ha bandito una richiesta, una manifestazione di interessi e hanno risposto 2.100 imprenditori agricoli che hanno tutti insieme un fatturato di 100 milioni di euro e rappresentano le 71 mila ettari di terreno a superficie agricola biologica. Un primato a cui puntano molte altre regioni per trasformare l'Italia nel più grande parco bio dell'intero continente.